Siamo con il dottor Luigi Laterza, candidato al Consiglio regionale con la Lega a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. In una delle precedenti interviste abbiamo parlato in generale di sviluppo economico e abbiamo fatto riferimento alla risorsa turismo. Dottor Laterza, andiamo nello specifico. Un territorio, quello tarantino, che dal punto di vista paesaggistico, delle risorse naturali, nonché per quanto riguarda il patrimonio archeologico, offre tantissimo. Però evidentemente non c'è stato e non c'è quello slancio che altre realtà del Salento hanno avuto. Devo dire che nonostante gli imprenditori, tutto ciò, nonostante gli imprenditori ionici, in particolare mi riferisco a quelli della costa salentina, che sono veramente delle persone capaci, che stanno facendo tanti sacrifici e stanno provando anche a coordinarsi tra di loro, nonostante questo manca una visione d'insieme da parte della regione Puglia. La regione Puglia è assolutamente assente da questo punto di vista, non è mai riuscita a coordinare quelle che sono le peculiarità che io ritengo uniche per la provincia di Taranto. Perché è difficile trovare in Italia, se non in Europa, una città che abbia le possibilità e le caratteristiche storiche, culturali, le bellezze naturali e il nostro mare, credo che sia veramente impossibile. Per cui manca questa visione d'insieme, la regione deve essere come ente sovra comunale e sovra provinciale, è l'ente che deve saper amalgamare tutte le forze per dare veramente alla provincia di Taranto quell'importanza che Taranto merita e questo fino adesso non è avvenuto.